L'idea di rilevare la storica libreria moderna di Ortona nasce dall'amore che io e mio fratello Francesco abbiamo sempre costivato per la lettura e dei libri. Il nostro intento, oltre che continuare la tradizione, è quello di ampliare le attività della libreria con degli eventi correlati, quali possano essere i gruppi di lettura, le letture bambini, gli incontri con gli autori ed altri servizi aggiuntivi che scoprirete pian piano. Nell'individuazione del nuovo nome da dare alla libreria, libreria moderna diventa libreria moderna di Fabulinus e Minerva, due nomi scelti in quanto rappresentano due divinità della mitologia romana legate alla conoscenza, ma anche le iniziali dei nostri nomi, Francesco e Micaela. Dunque vi aspettiamo numerosi ad Ortona, al 133 di Corso Vittorio Emanuele II, libreria moderna di Fabulinus e Minerva.